Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì, comincio con una notizia importante, lunedì mattina il cimitero Camposanto del nostro comune sarà chiuso per lavori di manutenzione, il cimitero riaprirà alle ore 13.30 e sarà aperto per tutto il pomeriggio, quindi segnatevi, lunedì mattina il cimitero sarà chiuso. Do ora lettura di un comunicato che arriva dall'ufficio dei servizi demografici riguardo il censimento, dal 1 ottobre è iniziata l'edizione 2024 del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge 2.530 comuni e circa un milione di famiglie. Circa 1.300 famiglie fagnanesi selezionate da Istat hanno ricevuto nelle scorse settimane la comunicazione con le istruzioni per la compilazione autonoma del questionario, che sarà possibile solo fino al 9 dicembre. Inoltre, a partire dal 12 novembre, i rilevatori incaricati dal comune passeranno al domicilio per tenere l'intervista faccia a faccia. Per chi lo preferisse, è già possibile compilare il questionario presso i servizi demografici, contattandoli telefonicamente negli orari di apertura dell'ufficio. Prima di passare agli eventi del fine settimana, domani è il 12 del mese di ottobre e a Fagnano abbiamo una nuova centenaria, la signora Stefani Maria, che compie 100 anni. Porterò al pomeriggio gli auguri di tutto il comune, di tutta la comunità fagnanese per questo importante traguardo. I centenari a Fagnano non sono pochi, anzi qualcuno è già arrivato alla soglia dei 102 e magari in un prossimo video vi dirò i nomi e cognomi di chi ha compiuto questa importante età in questi anni. Passiamo ora agli eventi del fine settimana e sabato per la rassegna un caffè con l'autore, la presentazione del libro di Gianluca Serrioli alle 17.30 qui al Castello Visconteo il libro dal titolo Il Giovane Giovanni. Mentre domenica, dalla mattina alla pomeriggio sera, in piazza Cavour, che è la piazza del Castello e all'interno del Castello Visconteo, la tradizionale Sagra della Zucca organizzata dalla Proloco di Fagnano Luna. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti! Grazie a tutti!